La ditta Eofon è abbastanza presente anche con il coronavirus, assistenza gratuita a casa, anche durante l'emergenza. Noi siamo qui che li aspettiamo, bravissime persone, sincere, precise, come non sono stati sempre. Io, Marisa Gurrellini, ho 90 anni, sono quattro settimane che stavo dentro in casa e allora non mi preoccupava perché le bile mi stavano finito, invece Claudio è venuto a casa e me l'ha venuto a portare, è stato bravo. Anche nonostante con questa malattia che gira, ecco. Va bene, grazie Marisa. Anche in tempo di coronavirus l'Eofon è venuto a casa gratuitamente a fare visita. Grazie. Grazie. Grazie a te. Buongiorno, anche con il coronavirus 19, l'azienda Eofon mi ha garantito l'assistenza domiciliare gratis. Il centro Eofon mi ha garantito l'assistenza domiciliare gratis. Nonostante il coronavirus, l'Eofon mi ha garantito l'assistenza tutti i giorni in caso di... E' gratuita. E' gratuita. Nonostante il coronavirus, l'Eofon mi ha garantito l'assistenza domiciliare gratis. E' gratuita. Allora, nonostante il coronavirus, l'assistenza Eofon mi assiste a casa. E' gratuita. Adesso. E' gratis. E' gratis. Nonostante il coronavirus, l'Eofon ci ha garantito l'assistenza a casa gratis. Nonostante il coronavirus, l'Eofon ci ha garantito un'assistenza a domiciliare a vita. Grazie di tutto. Nonostante tutto il coronavirus, l'Eofon mi ha garantito un'assistenza gratuita nella mia residenza. Grazie di tutto. Mi ha garantito l'assistenza domiciliare a casa, nonostante il coronavirus. Grazie a tutti.